Ciao, sono Melania e oggi ho concluso il terzo anno all'Accademia Liliana Paduano. Ho conseguito tutti e tre anni ed è stata un'esperienza bellissima. Ringrazio tutti, soprattutto i professori. Finalmente ho concluso l'esame quest'anno, l'ansia è andata via. Sono contenta di com'è andata. È stata un'esperienza bellissima, i docenti bravissimi che mi hanno permesso di crescere sia nel modo lavorativo e sia personale. Consiglierei a chi ha la passione nel mondo dell'estetica di iscriversi qui all'Accademia Liliana Paduano. Ciao!